dolci super tranquilli bentornati oggi siamo ufficialmente nel mese di galaverna nella fattispecie al giorno 9 ovvero nella luna calante della prima settimana ed è in questo giorno che ho compreso qualcosa di molto importante che mi manca la modalità di video in stile raw ovvero questi video in presa diretta fatti col cellulare facili da realizzare che ci permettano di avere un flusso di contatto di condivisione di dialogo molto aggiornato la serie orto super tranquillo adesso continuerà ovviamente ma da sola non mi basta sento il bisogno di guarnire tanti piccoli dettagli tanti piccoli spazi della quotidianità che quella serie da sola non può coprire tutto altrimenti dovevi passare la vita al computer e l'idea è di passarne solo in parte quindi con grande gioia oggi in questa puntata di orto super tranquillo raw siamo alle prese con le verze queste verze sono un progetto strano un progetto senza gabbia un progetto volto alla sperimentazione che nasce sulla domanda che cosa succede se seminiamo le verze e i cavoli cappucci non nel loro periodo ideale ma all'opposto di solito verde cavoli cappucci si seminano a cavallo di giugno per fare poi una gloriosa piantomazione del pattern 2 per l'orto autunnale in questo caso li abbiamo seminati a dicembre e adesso che a gennaio li stiamo ripicchettando perché perché tutto questo bella domanda perché tutto questo perché ci piacerebbe vedere cosa succede coltivando le verze in ambito primaverile fondamentalmente per riuscire adattare questa forma di meravigliosi cavoli anche a una stagione diversa rispetto a quella autunnale perché se ci accontentiamo della variante autunnale per molti mesi dell'anno rimarremo senza cavoli quindi l'idea è di adattare e quindi di selezionare a cominciare con i cappucci con le verze dei cavoli non solo autunnali ma anche primaverili o addirittura estivi e questo è l'inizio del progetto questa è la padella di vaschette preparate con il terriccio miscelato secondo la ricetta che abbiamo visto diverse volte e quindi adesso si procede al ripicchettamento questa è la prima vaschetta che abbiamo selezionato per fare il ripicchettamento ma come possiamo vedere ci sono alcuni esemplari che sono veramente piccoli e sguignoli mentre altri sono ben piazzati ben robusti ben volenterosi e quindi degni della prima selezione per cui adesso quello che facciamo è svasare i singoli panetti di terriccio selezionare le pentine più belle e con una mano sul cuore ed anche l'altra scartare quelle meno belle ecco la prima zolletta volta al ripicchettamento potremmo immergerla in acqua come abbiamo fatto vedere in passato per facilitare la liberazione delle radici ma in questo caso mi sembra idoneo anche semplicemente massaggiare il terriccio in modo dolce e delicato senza avere nessun tipo di problema in tal senso ecco su un paio di piante attaccate così tanto attaccate come queste si ci sta il fatto di usare l'acqua allora le mettiamo in ammollo e delicatamente l'acqua aiuta almeno in parte la districazione prima attaccate un fallito immagini immagini forti immagini immagini agonizzanti la difficoltà di fare video con una mano torna a farsi sentire radici molto lunghe rispetto a quello che effettivamente ci serve ma ce l'abbiamo fatta quindi questa è la selezione questi sono gli alveoli cambio mano per essere a favore di luce facciamo il foro ribagniamo la radice in modo da renderla ben idratata e soprattutto ben pesante in modo da poter inserirla comodamente nell'alveolo richiudiamo delicatamente il terriccio cercando di far sì che il gambo sia il più profondo possibile avendo cura di far sì che i cotiledoni che sono questi rimangano comunque fuori dal terriccio continuiamo in tal senso la selezione delle piante migliori e cominciamo a scartare le peggiori ma ecco pippi oggi ho deciso che non potevo fare a meno della serie super tranquillo raw e quindi sebbene la serie orto super tranquillo adesso continuerà ci sono molti dettagli della quotidianità che hanno bisogno di un cellulare e una presa diretta devono essere carpiti con la semplicità del mezzo di ripresa è una luce caravaggesca mi permetto di dire quindi stiamo selezionando le piantine più belline piantuline più belline esatto la stiamo selezionando forse è stato il passaggio di arthur a istigare questa formula pensavamo di averla messa da parte e invece no se le tiro ho paura che si strappino tu le stai rivoltando io le sto rivoltando forse è stato anche un po' il rivedere le vacanze romane quello che è la luce, il teleponino, le prese facili, immediate senza montaggio anzi in questo caso ho scoperto la funzione pausa che ci permette di fare il montaggio direttamente mentre filmiamo pensa pensa che gioia glorioso queste le intendi come belline? queste sono molto belline e un aspetto molto interessante di questo progetto che noi chiamiamo cavolo tondo è il fatto di far ricongiungere insieme geneticamente sia il cavolo cappuccio sia il cavolo verza perché se ci pensiamo sia il cappuccio sia la verza sono dei cavoli e la loro forma è tonda sto lasciando forse questo lo scarteli direttamente allora visto che in realtà geneticamente il cavolo cappuccio e il cavolo verza sono la stessa pianta ovvero brassica o l'eracea ci siamo detti perché non favorire direttamente il loro incrocio genetico riuscendo così a ottenere un tipo di pianta che sia contemporaneamente sia una verza e sia un cappuccio visto che di solito nel mondo della salvaguardia dei semi c'è un po' la paranoia del fatto che non si vuole gli incroci tra cavoli di tipi diversi allora mi viene spontaneo dire e se incrociassimo i cavoli diversi ma affini questo è un discorso che era nato già l'anno scorso ma per forza di cose non abbiamo potuto avviarlo magari perché il pensiero rimanda al cavolfiore che si incrocia con un cavolo nero e quindi viene fuori una roba che non si sa bene da che parte e da che direzione prende infatti il cavolo del fiore sarebbe carino incrociato col broccolo eh sì quindi anziché avere così tanti cavoli diversi che portano a così tante problematiche in fatto di selezione dei semi per evitare gli incroci se uniamo la verde il cavolo cappuccio intanto da due diventa uno se uniamo il cavolo del fiore del broccolo da due diventa uno e già abbiamo semplificato di molto perché altrimenti la gestione del cavolane da seme per evitare incroci vorrebbe che ogni anno si facesse una sola varietà oppure ci si perdesse dietro a pratiche di incappucciamenti vari che sono follia? che sono follia sì ma magari inizialmente se si ha la voglia di coltivare più specie specie? cavoli? sì perché tecnicamente è una sola specie però sì insomma più famiglie? più varietà? sì sono forse tipologie tipologie magari nel tempo si coordinano anche nelle fioriture magari il cavolo nero ritarda leggermente la o anticipa leggermente la fioritura rispetto a un baccolo sì e in questo senso il fatto di unire tipologie diverse come la verza e il cavolo ma vuoi fare qualche ripicchettamento per l'inquadratura che ha fame di ripicchettamento? è sempre molto volentieri, mi manca lo strumento e la scusare una bandierina forse sai dov'è? nella padella che è la per terra che ho quadrato là dietro adesso c'è questo quindi di solito si parla di popolazioni evolutive mescolando specie affini quindi il mais con il mais e il grano con il grano con il cavolo essendo tutti la stessa specie non si può fare una popolazione di tutti i cavoli però si possono fare popolazioni di varietà della stessa tipologia quindi cavoli cappucci con cavoli cappucci o altresì verze con verze ma in questo caso facciamo verze e cappucci di tante verità diverse questa è meravigliosa mi sento molto entusiasta nei confronti di questo progetto di questo esperimento di questo progetto infatti in questa parte della padella abbiamo un miscuglio di verze provenienti dal sito sativa e dal sito cocapelli mentre da quest'altra parte abbiamo un mix di sgaravatti e tante altre verze recuperate qui e là e ora procediamo con il delicato ripicchettamento e ci aggiorniamo posso dire che questa formula della terra asciutta sotto e bagnata sopra mi piace come texture e come gestione della terra? cioè? beh forse perché tendenzialmente ho fatto tanti ripicchettamenti in estate e quindi bagnavo tutto il contenitore lo mettevo nel bidone ed era tutto bagnato no? e quindi non ti rendi mai conto veramente di quanto si compatta la terra di quanto la puoi strizzare invece avendo la la terra bagnata sopra sotto rimane sofficino la schiacci ma non diventa mai troppo troppo compatta soprattutto in questa stagione perché magari in estate si asciuga prima la terra invece adesso se bagni tutto l'alveolo si possono fare delle muffe ci può essere del ristagno ma questa la mettiamo? io la scarterei sinceramente beh dopo però un goccino d'acqua con lo spruzzino io glielo darei però tu dici inserirla inserirla in un substrato soffice diverso che in un substrato ristagnante si pure perché adesso quando no si schiaccia se è tutta bagnata si schiaccia tanto secondo la mia sensazione delle mani e non essendoci un sole cocente tende a rimanere molto bagnata anche sotto invece secondo me un po' di respiro un po' di di ariosità mi fa bene con l'umidità che c'è in questi giorni confermo e condivido ed è in questo frangente che ci rendiamo conto che nonostante fuori ci sia una giornata relativamente lucente in realtà il cielo è coperto e ci arriva ben poca una luce in casa in cui abbiamo solo una fioca lampadina che ci illumina il tavolo che anche se sembra che ci sia luce non ce n'è tanta e quindi l'idea a questo punto è di installare una luminaria e che luminaria? esattamente questa preparata per il light box per dar vita alle solanacee cosa che succederà nei prossimi giorni ma intanto installiamoci qualche lampadina e come si può vedere la luminaria terrebbe lo spazio di 9 lampadine in questo caso ne teniamo una, due, tre, quattro, cinque questa centrale no perché devo rifare il collegamento elettrico che ha avuto qualche problema e non funziona queste tre invece non le mettiamo proprio perché questo lato toccherà con la finestra che è un po' umida quindi è meglio evitare o pipì allora l'ideale adesso è installarla lì su ecco che slacciamo i cordoni portanti e adesso il gioco è come farli passare lassù se non con l'abilità sempre molto attento tanta abilità allora tu ora prendi in gestione tutto io prendo questi adesso facciamo 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 e la luminaria è installata mi sembra mi sembra mi sembra posto tac param questa fa finto di non andare va bene quindi io in realtà ne ho messo soltanto uno di calda sono tutte fredde che io ho portato aspetta che le cambiamo si? si eccole tutte con il bianco caldo questa volta ne teniamo solo tre perché oggettivamente sono sufficienti per farci luce e ripicchettiamo ed ora che la padella è quasi tutta ripicchettata si passa all'idratazione simbolica ma indispensabile di ogni singolo alveolo dopo il ripicchettamento in teoria bisognerebbe lasciare le piantine almeno un paio di giorni lontane dal sole diretto con con una luce diffusa nell'aria ma senza il raggio cocente vedremo vedremo dove riusciremo a collocarle e allora morale della favola questa prima padella è completa abbiamo rimasto una vaschetta di verze che vengono da satire le cocco pelli probabilmente faremo un ripescaggio della seconda selezione unendole alle migliori di queste per farne un'altra ma adesso questa la portiamo in celasera ed ecco che le verze sono ora intente a conoscere la graticola della vita sottoposte a questo vento in fausto in una giornata della clumbea in cui ci sono delle deboli goccioline che si infrangono sul volto come trafiggendolo ebbene la posizione della serra di per sé è in una condizione in cui il sole ci batte poche ore durante il giorno e ora si sta tutto rannuvolando quindi comunque queste verze non rischiano di avere troppa luce permesso eccoci qua con un bel pantano di fango allucinante direi di mettere queste verze esattamente qui vicino ai loro fratelli cavoli che ripicchettati in precedenza incominciano a piazzarsi incominciano a stare discretamente bene chi più chi meno i piedi si incollano ecco ecco questi ad esempio sono tra quelli che stanno bene meno alcuni si sono sguegniti del tutto ma altri sono forti e resistono quindi anche questa è selezione come qui d'altronde il fatto che questa si sia ammollata e questa no è selezione quando si entra in un'ottica evolutiva tutto è selezione e questo è quanto sta avvenendo oggi all'orto super tranquillo e ti auguriamo buon attimo presente e ti vogliamo bene tanti bacetti tanti bacetti